cari amici eccoci qua domenica 28 no 27 e niente abbiamo dovuto togliere tutto perché sono venuti nella notte tra sabato e domenica stanotte sostanzialmente e ci hanno liquidato altri praticamente tutte le le broccoli e i cavolfiori c'erano 4 e un cavolo nero e una verza e quindi abbiamo detto ho seguito l'indicazione di gloria che diceva meglio poco che niente e abbiamo tolto quello quello che c'era ancora dimangiabile chiaro che non era ancora fino cioè non è ancora grosso come alla fine della crescita però però non si poteva fare altro ho tolto tutte queste 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 reti e sto lavoro che purtroppo non è servito a nulla e adesso metteremo dell'aglio e metterò dei piselli che c'è ancora tre giorni di tempo e ne approfittiamo per farlo così così riusciamo a produrre qualcosa e pazienza i cavoli broccoli le verze e quant'altro non li metteremo più andremo a comprarli ecco oggi novità c'è gloria si pianta così crescerà dell'aglio meraviglioso io riprendo perché lei non vuole riprendere quindi le alternative sono che io non posso riprendere e seminare non ce la faccio quindi abbiamo trovato questa soluzione ho messo queste tre canne così andiamo dritto senza dover mettere di nuovo i chiodi e tutto quanto benissimo vai pure gloria questo è l'aglio l'aglio cosiddetto piemontese viene anche chiamato il bianco di padovano ma non so se il termine esatto è un po più vicino alla canna solo per andare dritto serve non è che la canna sia niente di particolare solo per andare dritto per andare tutti storti benissimo vai pure tranquilla ve ne facciamo vedere qualcuno poi dopo ovviamente vai avanti fai un altro buco troppo lontano così lasci stare lì così allora io ho aggiunto solo dell'etame maturo che ho spaccato e setacciato un pochino per renderlo molto morbido e molto fine praticamente ho tolto quelle zolle un po grosse un po più dure e poi niente poi abbiamo rastrellato sì no ma lasci stare non è che devi né piantarlo né niente gloria cioè devi solo fare il bocchino infilarlo dalla parte giusta poi la mettiamo a posto dopo non preoccuparti che va benissimo ok eccoci qua mi sono messo da un'altra parte così vediamo gloria che lavora di così così lei è molto più più pignola del sottoscritto è come vedete no gira passare passare al di qua anche un po più qua perché così ecco così così quando cresce perfetto vedete il centimetro più centimetro meno mannaggia pure queste mini lepre sento qui cerbiati alcune alcune si hanno fame che loro hanno diritto di mangiare anche loro ma subito i nostri cavoli adesso è due anni vai avanti pura tranquilla che i cinghiali i caprioli chi ne mine lepri e quindi tolgono tutto il mangiare che avrebbero in natura sì questo è anche vero però cosa mangiano sì però vengono insomma do mangiare i nostri cavoli mi dispiace sono mangiati cavoli di qualcun altro mi dispiaceva per l'altro ma ancora facciamo almeno una fila facciamo vedere gli amici poi facciamo vedere una fila che mettiamo i piselli nell'altro perché c'è ancora tempo poi ancora lì e poi ancora un altro che la canna non arriva più ok ci vediamo tra poco ecco qua abbiamo seminato tutto l'aglio coperto adesso passiamo ai piselli piselli l'unica differenza che sono più piccoli qui seguiamo le canne e seguiamo ecco la linea delle canne e ne mettiamo due per ogni buchetta due semini prego e poi copriamo dopo due semini bucchetta anche un po anche un po più vicini così sempre uguale ecco lì due poi se ce ne vanno tre va bene lo stesso ne gloria non formiamo diamoci e allora metti lì non troppo profondi ma così sono proprio fuori e allora fai così sia posto vengono vengono non preoccuparti magari si piegono due giorni in più o anche tre però non seguiamo tanto la canna non importa non importa la canna serve solo come come lì l'hai già messo lì come indicazione per capire di non andare proprio a zig zag insomma che non ha nessun senso ecco è a baia perché oggi è giorno di caccia sentirà sentirà di 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 tiracani ma si ma va bene anche se c'è c'è no le l'hai già messo l'importa ancora una si segui ok adesso viene di qua lei ecco l'hai già messo lì nel primo no e allora mettilo fai il buchino ripeto uno in più né meno centimetro in più non ha nessunissima differenza gloria dai tranquilla non preoccuparti che nessuno viene viene fare viene fare il 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 metro scusa è perché inutile mettere la canna se poi andiamo andiamo si insomma e allora tanto vale se mettiamo una canna dai 22 22 quindi così forse andiamo meglio un po più facile due ok adesso andiamo nell'ultimo e voilà abbiamo finito qui abbiamo messo i piselli qui c'è l'aglio ancora i nostri cardi porri qui niente qui eppure niente qui abbiamo messo i piselli e qui questi due abbiamo messo l'aglio abbiamo coperto il tutto e siamo a posto questi non dovrebbero mangiarseli per il semplice motivo che non gli piacciono i piselli può darsi però i piselli cresceranno in inizio primavera quindi avranno altro da mangiare in giro per i campi spero e me lo auguro avranno altro da fare che non venire a mangiare i cavoli nostri in tutti i sensi ciao a tutti buona giornata ciao 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 ciao